non riuscirai a comprenderlo in tempo ma non ti preoccupare non ti servirà molto comprenderlo non è per te che è stato scritto o pensato o semplicemente concepito forse ma comunque è stato concepito e se qualcuno è stato in grado di pensarlo qualcun altro potrà anche svelarne segreti e non vedo perché non potrei essere io quel qualcuno lo guardai di sottecchi con l'attenzione rivolta allo schermo del terminale portatile anche per non soffermarmi sulla terribile visione d'insieme era sporco indossava abiti lerci e consumati aveva due scarpe differenti la barba incolta di almeno tre settimane solo a guardarlo faceva tanto di quel ribrezzo da farti venire voglia di allontanarti di almeno 100 metri e persino l'odore che emetteva ti faceva valutare seriamente quella ipotesi ma lo ammiravo lo ammiravano tutti era un mito seduto su una pietra infangata con le gambe incrociate sulla vetta della collina le mani consumate dal lavoro sulla terra un sigaretto consunto e fetente che teneva fra le dita tremolanti della mano sinistra e gli occhi i suoi occhi blu profondi come il più misterioso degli oceani come l'immagine rilassante del cielo nello sfondo dei sistemi multilivello basati su una nuova versione del sistema operativo i suoi occhi ti lasciavano senza fiato aveva l'espressione rilassata l'aspetto di un vecchio agricoltore sul suo terreno che si gode una meritata pausa dopo una giornata trascorse sui campi ma i suoi occhi avevi paura dei suoi occhi pensavi che ti avrebbe potuto uccidere con i suoi occhi ucciderti con la sola profondità del suo sguardo anche a miglia e miglia di distanza riportai lo sguardo che fugacemente si era soffermato su di lui sul terminale gli eventi degli ultimi sei giorni avevano cambiato completamente la mia vita mentre osservavo quei simboli il mio razziocigno sapeva che avrei dovuto occuparmi di decifrare quel codice ma la mia mente divagò quasi subito tornando al primo giorno tornando a come era cominciato tutto quanto e come non tornare indietro era passata meno di una settimana da quando era cominciato tutto quanto il mio nome non ha importanza quello della larva umana che mi stava davanti con quegli occhi blu fumando minibido neppure numeri ecco quello che siamo solo numeri solo bit io sono stato un numero uno nel mio campo nel mio piccolo ho una famiglia una moglie amorevole una magnifica bambina di sette anni una casa una bella villa in periferia dotata di ogni comfort autosportive moto computer dipendenti un intero impero nelle mie mani che schifo ora che guardo l'uomo che è stato ed è la guida spirituale per tantissimi provo schifo e vergogna per me stesso sono arrivato a questo punto con anni di duro lavoro e sudore della mia fronte senza dover mai dare conto a nessuno di quello che facevo come lui sono riuscito a superare molte sfide molte analisi grazie al raziocinio grazie alle conoscenze in ambito tecnico ma soprattutto grazie alla mia mente fredda e matematica anni di tecnologie sempre più evolute hanno insegnato tutti come appiattire la vita e renderla un lento e noioso fluire dalla mattina alla sera nel solito tran tran quotidiano un lento e noioso fluire dei giorni delle settimane dei mesi degli anni novità no le solite cose sai e invece no porcaccia miseria per una volta no non dopo aver visto come chiudere con tutto e con tutti non quando è finalmente possibile scandire la propria vita senza senza temi senza titoli senza 140 caratteri senza la tastiera del computer senza smartphone senza terminale senza terminazione senza corrente elettrica perché no il raziocinio ritrovare il raziocinio scoprire che la mente umana è un'arma meravigliosa e terribile anzi riscoprirlo scoprire che forse la radice quadrata di 78.432 non è batteria della calcolatrice scarica anzi no scoprire proprio che non serve una macchina per tenere in esercizio la mente isolamento questo ci vuole per capire per pensare per ragionare no isolamento per sentire i propri pensieri per sentire in mezzo alle onde wifi bluetooth e hyperland che c'è ancora del raziocinio che l'uomo può ancora pensare che esiste ancora la fantasia sei giorni fa ho lasciato tutto ho lasciato tutti ho lasciato tutti e tutto e sono entrato nel monastero che bel nome antico altisonante d'altronde mi hanno detto che l'edificio molti tanti troppi anni fa ospitava proprio un monastero e ora quello che serve è solo il silenzio una cella fredda un letto duro e niente tecnologia niente corrente niente telefoni niente terminali niente di niente le notti a lume di un mozzicone di candela e i giorni scanditi solo dallo scorrere del sole e dal bisogno di respirare a pieni polmoni a stretto contatto con la natura sono duri all'inizio per tutti sono duri il primo giorno è quello in cui decidi se hai carattere se sei carismatico molti vengono al monastero pochissimi superano il primo giorno io sono il priore da quando uscirai da questa cella sarai solo tu la tua mente e gli altri se vorrai rapportarti con loro qui infatti vige solo una regola coloro che alzano il cappuccio del saio sulla testa applicano il silenzio non potrai parlare con loro loro non parleranno con te che belle parole alzai il cappuccio sulla testa non appena giunsi all'arcata della porta per uscire ed allora per tutti i sei giorni di permanenza non lo abbassai mai il primo giorno passò lento omologo poco efficace e il terrore che mi fece tremare la colonna vertebrale fu quello che in qualche modo nel monastero si cooperasse solo per costruire l'ennesimo cliché di vita preconfezionata e dettata da regole di ripetitività generica ma superai il mio primo giorno dimostrando una forza d'animo mai vista in anni di monastero nessuno me lo disse perché invitando a rispettare la mia scelta del silenzio portavo sempre il cappuccio del saio sdrucito ben alzato sul collo e sui capelli corti e spettinati che in quei sei giorni giunsero pure a un opportuno livello di lerciume non dissimile a quello del personaggio che ora alla fine di tutto mi stavo osservando anche una settimana di barba cominciava a darmi fastidio ma era una sensazione lontana assente gli ero vicino lo stesso nonostante il fetore che emanava nonostante desse l'impressione di essere un pazzo ma gli stavo vicino perché avevo provato quelle sensazioni anche io e io avevo assaggiato la profondità di quello stato dopo sei giorni pur sapendo di non avere la forza di affrontare una vita di privazioni ascetica come quella della nostra guida spirituale lo ammiravo lo ammiravo proprio perché aveva trovato il coraggio di allontanarsi da tutto di allontanarsi così tanto da essere riuscito a capire il passato il presente il futuro della tecnologia senza neppure bisogno di esserne a contatto il secondo giorno rimase a passeggiare nel giardino interno del monastero cercavo di mettere in ordine la mia testa cercavo di trovare il bandolo della matassa di pensieri e ragionamenti che finalmente urlavano dall'interno del mio cervello cercando di uscirne tutti assieme appassionatamente e fu dura ma quando giunse alla sera e mi ritirai nella mia cella in attesa di addormentarmi sul duro letto di pietra e fieno cominciavo già ad assaporare un senso differente del tempo non cercare di trovare segni di una profondità disarmante non immaginare chissà quali allitterazioni metafisiche né intricate e poco controvertibili formule trigonometriche sviluppate in codice esadecimale o che coinvolgano magari anche l'insieme dei numeri complessi coniugati la strada è molto meno complessa di quanto possa apparire al primo sguardo non è una strada semplice e non a caso ti dico che sinora in centinaia di anni che si tramanda questo codice nessuno è mai riuscito nell'intento cadiamo nella superstizione nella leggenda e profezia che vuole dell'esistenza di un uomo dalla mente contorta eppure pura forse un pazzo un uomo che potrà decifrare questo codice senza bisogno di studiarlo un codice concepito da una mente superiore no non è opera di una mente superiore è opera di una mente libera ma inferiore vuoi la verità quello che non vi tramandate dai secoli è un rasoio di occam questo codice è stato concepito da un uomo che non ha mai conosciuto la tecnologia la tecnica e la matematica nulla forse da un uomo che non era neppure in grado di leggere né scrivere o fare di conto il terzo giorno o il terzo giorno come mi ricordo il terzo giorno come dimenticarsi quel giorno in cui uscì dal monastero solo per passeggiare fino a limitare del bosco solo per scoprire che c'è ancora un sole che splende alto nel cielo solo per scoprire che ci sono ancora uccelli che cinguettano per scoprire che la natura esiste e va avanti secondo un disegno che non si può sintetizzare in una formula matematica che non si può sintetizzare in 140 caratteri che non si può far diventare un concetto e il quarto giorno che semplicemente passò e il quinto no il quinto fu il giorno difficile sapevo che mi rimanevano solo 24 ore prima di dover incontrare di nuovo il maestro sapevo che avrei dovuto trovare una risposta e che la risposta non era solo e semplicemente dettata dalla quieta interiore che non era solo dettata dai miei pensieri che finalmente avevano trovato il loro spazio e la loro realtà senza bisogno di urlare per cercare di venire fuori da una mente offuscata dai tempi e dai ritmi della tecnologia ma quel sesto giorno all'alba fu il giorno ero uscito di corsa dalla cella di nascosto avevo camminato per delle ore fino ad arrivare dal maestro ero sudato la bocca impastata la gola riarsa in piedi davanti al maestro guardavo il terminale e leggevo il codice no guardavo il terminale tenendolo in mano come un oggetto sconosciuto solo sei giorni avrebbero potuto cambiare radicalmente la mia vita il mio rapporto con la tecnologia forse persino il mio rapporto con l'intero universo ma poi all'improvviso tutto divenne chiaro come se quella cozzaglia di caratteri casuali fosse diventato all'improvviso uno di quei pensieri in 140 caratteri da social network tanto di moda breve conciso forse persino ridicolo e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.